Ok è giunto il momento di farli fuori mi sono veramente rotto il cazzo a costo di morire 200 milioni di volte No 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 stavolta ero tanto così porca puttana porca puttana stava funzionando Sì però porca di f***a ok nuovo approccio Ciao sfigato Ha funzionato perfettamente No aiuto aiuto Ok è andato giù Cosa cazzo era Ok adesso possiamo esplorare liberamente finalmente Senza la pressa al c***o di quei cacciatori di merda Ma che cazzo Oh figlio di troia dove sei? La Ok c'è qualcuno che la sta evocando Eccola lì ciao stronza Perfetto Ah si è compenetrata con la E la madonna Sì ma uno shot continua però sta zona eh Minchia che spaventa Ma mannaggia il cazzo ma tu sei scemo No però scusa un attimo magari c'è qualcosa di utile Tipo una lanterna una lanterna sarebbe veramente figa da prendere al momento Ah ok siamo qua Che non mi ricordo neanche come ci si arriva ma vabbè Oh non mi sembra molto comodo questo No c'era una cosa che non ho Vediamo se riesco a farla ora Sì Che cazzo Che roba è Sembra l'altarino Che c'era dove Nella chiesa di prima Esamine Aiuto No Oh No dai cos'è No dove cazzo sono finito adesso Dai dove cazzo sono Ah sono dall'altra parte semplicemente Niente di strano Ma queste sono persone Oh mio dio non me ne ero mica accorto Ma Sono fuse nei muri Ma cosa cazzo sto guardando Oddio qua c'è un boss Puzza di boss lontano 200 km sta roba C'è pure la luna rossa per l'atmosfera Vabbè L'ho preso fino adesso Tanto vale prenderla anche ora Oh mio dio pure la cutscene Delle nuvole imbarazzanti da vedere Oddio Cosa cazzo sta succedendo What La luna nera Ma che cosa Mmm Sexy Che schifo Ma che schifo è Oh mio dio È enorme Oh porca troia Fantastico Il rinato Oh mio dio Cosa mi sta lanciando Ok È abbastanza lento almeno Ahia però picchia anche coi piedini Eh ma non vale Mi stanno tirando le cose E mi sciottano Vabbè io qua non ci so neanche tornare Quindi Non c'è certo il problema di Doverlo riaffrontare Sto coso Vabbè Sono già morto È durato un secondo Questo boss per me Quindi qua cosa c'è Qua c'è una porta aperta Volendo potremmo procedere Di qua Gemma Umida Del cacciatore Della stirpe Gemma del sangue Umida Cacciatore Stirpe Potenza di attacchi Verso simili Del 13% Minchia È utilissima Con i cacciatori Quindi Perfetto Ok La spada È molto utile Perché non lascia Ripiatare Ti prego dimmi Che c'è una lanterna Da qualche parte No 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 Non è il momento Di morire Per cortesia Ti prego Ti prego Manca un colpo Non ci posso credere Mi rendo conto Che sto registrando Il nulla cosmico Ma Non so cosa dire Vi faccio veramente Cagare oggi Ok Ho deciso che riprovo il boss Devo solo ritrovare La strada ora Ok Ti manca un colpo E però Ok Vediamo cosa proteggeva Pezzo di petra del sangue E quindi Torniamo dal boss Con la speranza Di fare meno schifo Magari E con solo 12 fialette Cazzo E mi vomita pure addosso Grazie Porca puttana No 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 Ah posso nascondermi Ah posso andare ad ammazzare Le stronze Eh però sono morto Però almeno ora So che posso farlo Fuori una Fuori due Ok Lì c'è una terza Dimmi che sei morta Spero di sì Uno Due Tre Via Via No Non ti incastrare Non ci posso credere Questa è stata proprio Una morte del cazzo Mi arrendo Prossima partita Spero di sì Mi arrendo Prossima partita Spero di sì Spero di sì Grazie a tutti.